ciao gente messo ho fatto partire la registrazione così stavo già affinando da un po devo dire questa verità un po che non ci vedevamo po che non facevo video un po che compagnia va bene piace una volta video è un po più strano video in cui non devo spiegare niente a nessuno qua nel campo sono un principiante pure io ma che stai a fa parte il fatto che già ci ho messo un titolo per cui già l'avete visto devo sapere che so fa lo faccio vedere ecco qua sto affinando un coltello da cucina e a me lo sapete l'affilatura affinato le affilatura non è che il rasoio si bello per carità ma io non è capito il rasoio perché me ce devo fare a barba si affilo il rasoio perché mi piace affilato o avendo tutti i rasoio affilati avendo comprato un po dei coltelli giapponesi per la cucina essendo arrivati coltelli giapponesi nuovi quelli buoni i primi che ho comprato così di una serie abbastanza economica e finalmente li posso usare come coltelli sacrificali su cui fare esperienza come vedete so sulla sintetica è una 1200 della king ho visto tantissimi video online in cui tanti affilatori professionisti tanti maestri giapponesi usavano sto cavolo di king e allora dovendomi fare delle pietre da coltello di vabbè vado a fiducia pure io sto affilando una piccolissima debba una debba con una lama da scusate intanto la pulisco un attimo la debba con una lama da mi sembra 10 centimetri e mezzo che tutto sommato c'è anche la sorella maggiore o anche la sorella maggiore da 16 però devo dire che in cucina si comincia a sentire il filo invece a sentire l'icciolino di bava sul lato opposto a dire che 10 centimetri e mezzo dice mia moglie la usa molto spessa un coltellino polivalente in cucina però ricordo per quelle pochissime persone che non avesse che non conoscessero la debba la debba è un coltello asimmetrico vedete su questo lato c'è lo smusso ma su quest'altro lato sembra piatto dico sembra perché in realtà dov'è di qua in realtà è leggermente concavo un pochettino infatti bisogna lavorarci molto poco perché andando visto che tocca solamente sulle parti esterne se si va a mangiare la concavità il coltello è bello che rovinato ok ho fatto partire la registrazione che il grosso del lavoro era già stato fatto che perché il lavoro il lavoro brutale si fa su questo tipo di pietra sulla grana mille in realtà io ho visto tantissimi filmati chi predilige la grana mille chi addirittura la 800 l'importante pietre morbide delle sintetiche morbide che non graffino il bevel anche perché qui parliamo di maxi bevel larghi un dito va salvaguardata anche con l'estetica del coltello va curato solamente il filo e le vede sapete che le pietre più dure graffiano di più per cui che mi sono ripetito non rimasto quando sono arrivato le king a casa poi chi mi segue già sa che io me ne vado scemo le naturali giapponesi quindi stiamo parlando sulle naturali di altre durezze sinceramente avevo letto nelle descrizioni della morbidezza di questo tipo di pietra ma mi sarei aspettato una morbidezza del genere guardare sto praticamente navigando su una marea di fango autoprodotto dalla pietra ho letto in ho visto in diversi video sentito raccomandazioni di non togliere di non andare a pulire questo fango perché questo fango è comodo partecipa attivamente scusa quando mi vedete tutto sorto dire che sto sciacquandola e la vaschetta dell'acqua ce l'ho un po lontana dice perché partecipa attivamente alla filatura mi sono accorto e come al solito le scuole di pensiero sono tantissime poi ci stanno gli altri no non è vero la pietra soprattutto i coltelli si affinano a pietra pulita ma chi c'è una ragione non lo so io perché parlo e fermo le mani diciamo che la bavetta la sento quindi adesso pochissimi passaggi sul lato che non ha lo smusso questi passaggi sempre con la versione solo verso il dorso quindi qui non faccio missione faccio che sono solamente al richiamo del coltello sulla pietra quindi non lavoro mai con la versione in controfilo perché così ho visto e lì sembra che siano concordi e siano concordi tutti quanti almeno un punto fermo siamo riusciti a metterlo anche sulla pietra del coltello per il resto certo sono messi ed affidatore non trovi mai due persone che pensano lo stesso modo io penso che possa andare bene ho messo scelto brutto posto per mettere la vaschetta dell'acqua sto faccio stretching oggi più che a feeling o discorsetto che non c'è bisogno di dirlo poi ripeto in questo caso non devo insegnare niente nessuno sono l'ultimo arrivato sarà poco più di un mese che ha filo coltelli ecco forse faccio il video proprio per dare speranza ai principianti come me alla mentre per un rasoio una grana mille una grana da impostazione di base poi il resto delle affilature via via da venire per un coltello invece la grana mille è l'affilatura vera e propria all'uscita di una grana mille e il coltello deve tagliare per pensare che c'è una poca di carta devo cercare di sfruttare la carta come posso quindi come vedete alla fine del 1200 sono un po deficiente io ne so capace io vogliamo dare un'altra bottarella tanto dai il video sta ancora otto minuti una volta tanto non ho esagerato perché avete visto il taglio c'è ma non è un bel taglio liscio netto è chiaro che migliorerà sicuramente con le pietre ah non mi sono scordato di cambiare un quadrato eccolo qua è chiaro che migliorerà sicuramente con le altre pietre perché adesso dopo questa la mia idea la mia scaletta basica da principiante prevede un passaggio sulla 6000 sempre della king e alla diciamo che sulla semina al passaggio di finitura su semina molti si fermano io solo perché ce l'ho è solo perché ce l'ho perché onestamente non l'ho comprata apposta 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 per ma avevo già la 8.000 la 8.000 manisci per cui penso che non portare il lavoro e con lì manisci io la vorrei dare vediamo un po è sì persino se sente la bavetta 667 stanno che mi ha fatto quel giochettino bruttarello su alla prova del foglio del taglio della carta o di tagliato è perché a tagliata tagliata però se qua vogliamo fare gli sboroni a casa tratta di di prendersi le prime soddisfazioni sulle prime affidature ma mi piacerebbe tanto poter documentare l'affidatura riuscita bene anche anche se una delle prime diciamo dai allora allora qui c'è da fare sono perché mi sto spostando la bavetta da un lato all'altro allora cambio movimento mi faccio movimenti lunghi ma che prendono tutta la lunghezza del filo per spostare la bavetta una volta su un lato una volta sull'altro così da riuscire a spezzarla per farla cadere ok oddio ma sarebbe prendere pure il pad del troppo pad del troppo c'è un po di pasta sopra bastano poche passate su quella pasta e eventuale bavetta residua non ci dovrebbe essere più anziché chiacchierare darmi ma no uno dieci secondi e poi ce l'ho ho ricordato e già ve l'ho fatto vedere quello bellissimo che mi ha fatto si pone brigida con il logo del gruppo branca vadelse un lato in gruppone di toro per la sud lucidatura reale e un lato più grezzo su cui ho applicato un po di bassa un po di bassa vera quindi bastano pochissime passate sulla pasta tanto per pulire il filo ma veramente nulla di che 1 2 guarda 3 4 5 6 7 e 8 perché 8 e perché no adesso pure sull'altro lato 1 2 3 4 5 6 7 8 ho usato sto usando veramente il lato con la massa che poi avete visto gli ho dato giusto una sporcata non ce n'è neanche come la vedo adesso la bavetta chissà se riesco a farvela vedere vediamo 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 aspettate eh allora aspettare la venire eccola la avere la sbavettazza that's incredible perdere e va via solo a toccarla c'è più è basato il passaggio con un dito la sbavettazza non c'è più ok quindi andiamo a vedere un attimo a me c'è il microscopio ragazzi è la solita postazione da dove faccio i video eccolo il filo quello gigantesco che vedete inquadrato è il bevel è tutto lo smusso principale il filo non è che si veda molto bene però insomma si vedono i graffi della mille che già sono dei graffi devo dire tutto sommato aggraziati insomma non è un beve sgraffiatissimo come uno si potrebbe immaginare vediamo vedete se siamo riusciti a fare qualche cosa di meglio però aspettatevi vedo a casa che rificano un altro foglio quello è l'ho visto tutto praticamente vediamo se taglia decisamente meglio che dite perfetto adesso sono sempre riuscito a metterci un quarto d'ora via questa pietra e prendere la maschettina ci andiamo a prendere la semila sempre della king ritorniamo all'altra inquadratura ecco eccola qua la semila king c'è proprio così alla carrona se sento granulosità strane sotto perdo un attimo di tempo per pulirla tutto sommato come tutte le pietre sintetiche è una pietra veloce pietre che diventano nere ancora un attimo per questi lavoretti su sulle naturali sarebbero impensabili che sarebbero impensabili con questa velocità insomma anzi anzi e poi volete che non comincio a filare naturali pure sui gotelli dire quello che mi pare sarò fissato ma me le pietre giapponesi a me mi piacciono tanto 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 e non ci posso perché ne vado uscita adesso si sto usando dei giapponesi artificiali ma non è la stessa cosa detto bene pietra naturale e tanta roba ma tanta roba come feeling come gusto perché sinceramente sanno tantissime pietre che funzionano dalle normalissime artesie attira su scusate nuva puliti cuticole insomma per carità ogni pietra ogni pietra c'è la sua dignità ok vediamo un po che sta succedendo aspetta un pochettino vorrei darvi pure una bottarella di pulizia sinceramente ma veramente di pulizia adesso dopo che gli ho dato sta sgrattugiata qua la fanghiglia sopra non ce la voglio lasciare voglio pulire un attimo scusate che ho una spruzzettata d'acqua tanto perle oddio ancora carica la pietra questa cosa l'avevo già notata in altre affilature ovviamente non documentate purtroppo queste pietre morbide della king vanno benissimo si sui coltelli si fanno bei figli e il bevel pure ringrazia perché rimane sempre molto lucido però si saturano si saturano che era bellezza ok io pure qui adesso andrei molto molto veloce e ormai come avete visto il filo è stato fatto la taglientezza la filatura l'abbiamo già fatta con la 1000 quindi adesso questi sono tutti giochini sono tutti giochini di di finitura per cui come abbiamo fatto prima qualche leggerissima passata qualche leggerissima passata sul lato senza lo smusso ma veramente adesso proprio non so non so proprio applicando pressione è il solito giochino che mi serve solo ed esclusivamente per andare a togliere il ricciolino di bala che si è che si è formato quindi a pulizia mi sembra buono ma a suo punto a questo punto spettare il camion quadraturo come altre set otto passate ieri vediamo da alto facciamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 come presa con sotto e non ci sarà qualcuno visto il video di mauro che ha fatto 8 passate 8 non è un numero magico non stamattina mi girava così ma mi poteva girare pure in un altro modo è comunque parlando parlando ho perso pure il conto di quanto erano fatte da altra parte sicuramente a 8 sono arrivati facciamo così vediamo un po e sembra che stessa bene la vita come al solito vogliamo vederlo prima di fare la prova della carta è difficile pure alluminare sto maledetto però comunque filo 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 lucido bevele lucido insomma si vede si vede molto male però insomma dai più o meno più o meno si riesce a capire sporco da morire una volta poi che sarà ripulito non è malissimo ma fondamentalmente a noi quello che ci interessa vediamo se riesco anziché lavorare sulla carta grossa ne consuma un pochetto alla volta vediamo se opera 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 la presa l'ha preso meglio il filo taglia netto e tra l'altro ho scoperto pure silenzioso quindi adesso con passaggi ancora più veloci me ne vado sull'immanisci ve la faccio vedere subito eccola qua so cosa lo far solito perché io sono un maledetto rimanisci una bagnatina quindi con l'8000 veramente una bagnatina e via eppure qui adesso proprio pressione zero stesso principio dell'affilatura del coltello mano mano che si sale di gritta mano mano che si va in finitura via la pressione quindi in questo caso sto veramente con peso coltello questo adesso il dito qua mi serve solo e soltanto per guidare il movimento per essere sicuro ecco che la punta che la punta tocchi quindi vado a fare pochissimi passaggi a questo punto solo e soltanto di lucidatura estrema mettiamola così tanto per dargli quel zinzino in più al coltello che poi tra l'altro neanche serve perché secondo me le lame da coltello più aspettate che c'ho ospiti aspettate vai oh mamma ciao la barancamuglie allora stavo dicendo secondo me le lame che vanno affilate salendo tanto tanto di grit debbono essere lame quelle da filetto le lame più flessibili ma già una debba quindi una lama triangolare guardate che dorso che ha una lama rigida quindi già può essere una lama da colpo certo non ci vado a spezzare l'ossa del pollo quello magari lo faccio con la sorella maggiore però vado a fare il battuto il tritato con la cipolla e con le carote la finitura è che sto facendo io sulle 8000 è sinceramente non necessaria magari ecco devo andare a fare il filetto del pesce voglio tagliare un pezzettino di salmone non ho trovato la confezione del solito salmone pre affumicato pre affettato ma c'era solamente quello tutto intero beh allora mi metto un coltello giapponese magari con una yana gibba affilatissima alla morte e il filetto me lo vado il filetto me lo vado a ricavare io in questo caso in questo caso è sfizio è sfizio quindi sto procedendo così gli ultimi colpettini andiamo un po' sulla punta ci avete a lavorare un po' come estetica però una volta dato che sono riuscito a fare un video dei 24 minuti e sono praticamente in dirittura d'arrivo mi vorrei fermare mi vorrei fermare un attimo per cui ultimissimo passaggetto come al solito per levare eventuali ricci e bave sull'altro lato una passata e una passata passata lunga a cercare l'ultima pennellata sul filo ok ragazzi dovrei avere finito per cui l'ultima passata con la pasta anche se non servirebbe qua potrei fare direttamente a questo punto la lucidatura anzi no potrei a questo punto non lato bassa ma il lato cuoio quindi vado a scoramellare il rasoio ah senti che ho detto vado a scoramellare il coltello non è più o nemmeno come avrei fatto a questo punto con il rasoio quindi riadrezzare il filo qui il cuoio è attaccato e incollato direttamente sulla tavoletta rigida padelstrop perché qui mentre un minimo di pancia della coramella ci stonda quel filo leggero leggero in maniera impercettibile che contribuisce magari anche a dare un po' di dolcezza qua non ci serve anzi qua ci serve il massimo dell'efficienza per cui la scoramellata, la lama non deve assolutamente affondare nel cuoio ci siamo? quindi eccolo qua perché una striscia di cuoio naturale ma basta eh basta direttamente sul gruppone quello è il gruppone di toro in coltello a questo punto si è andato tutto bene ragazzi contento contento ma contento non tanto perché l'ho fatto vedere il terzo mistero di Fatima contento perché questa volta avete visto all'opera un neofita anzi scusate non mi voglio darla tendiamo a finire da solo non mi piace avete visto all'opera un principiante forse questo sarà il decimo coltello che affido su pietre relativamente nuove sono poche settimane che ce l'ho e vi ho fatto vedere quello che secondo me dovrebbero fare più o meno cioè guardare 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 riguardare io mi sono guardato tutti i video che sono riuscito a trovare tanto alla sera a televisione c'è niente per cui video di affilatura sui coltelli dall'America al Giappone da Maurekartei a non so non mi viene un cazzo giapponese non mi viene in mente nessuno no vabbè ce ne stanno tanti che poi in questo momento non mi sfugge il nome per cui ho visto quali erano i punti in comune tra una tecnica e l'altra arrivo allora qua non si discute questo lo dicono tutti per cui è sicuro poi ho visto le gire discrepanze come vorre raccontato fanghiglia sì fanghiglia no chi dice pulite sempre la pietra e lavorate su piatto l'affilatura sempre fresco chi invece soprattutto in Giappone e dicono no non buttate quella fanghiglia ritratatela sì però tenetevela perché vi serve vi serve per l'affilatura vi aiuta vi velocizza e vi migliora il filo e cosa le dà quindi mi sono prima visto e dopo di che è provare 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 mettersi là con santa pazienza per i vi 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 questo tipo di coltello con un singolo smusso ha dei vantaggi e dei svantaggi in affilatura il vantaggio è che allo stesso tempo secondo me è uno svantaggio è che va appoggiato tutto il piano del bevel sulla pietra per cui l'angolo il coltello se lo trova da solo qual è il giusto angolo di finitura lo svantaggio è che si è comodo lavorare fino a che tu hai un coltello in acciaio inox per cui io mi lucido tutto quanto il maxi bevelone lasciate perdere che il coltello è sporco però vedete che il bevel ha preso una finitura specchio tutta molto scomodo invece se sei in presenza di un augami o di uno shiro kami qui c'era sul maxi bevel a un certo punto c'è la linea di amon l'attaccatura tra i due tipi di acciaio l'acciaio morbido e l'acciaio temprato l'acciaio rigido riportato per il filo e dopo che sei arrivato a questo punto il bevel tu non lo vuoi così tu devi rifare di nuovo la finitura satinata devi fare di nuovo la finitura kasumi allora ti devi impazzire come si sta impazzendo il nonno a farti queste aspettate ve le faccio vedere non riesce a mettere a fuoco se aspettate un attimo metto una messa a fuoco automatico scusate ci metto veramente un secondo regolazione fotocamera messa a fuoco auto vai apri ok ce la dovrebbe fare allora solo io sono deficiente allora vedete questa è un uchigomori che io molto grossolanamente però ho trasformato in una finger una finger stone l'ho incollata sopra uno strato di carta velina quindi ho staccato prima l'esemplare dalla pietra proprio col martello dello scarpello l'ho resa sottilissima questa è ancora grossolana gli ho levigato la superficie insomma praticamente servono queste pietrine perché poi con queste pietrine si va a rilavorare solo e soltanto sulla finitura solo e soltanto sull'acciaio dolce per ridare la finitura kasumi quindi mentre con i rasoli e i coltelli doppio bevel c'è la scomodità di lavorare a costa alzata poi la scomodità alla fine poi viene naturale trovare l'angolo di bevel giusto perché solo il filo noi andiamo a fare toccare la costa rimane alzata e siamo noi col polso a decidere però non c'è il problema di rovinare non c'è il problema di rovinare la finitura kasumi mentre in questo caso no perché è un solo tipo d'acciaio questo è giapponese della kai però moderno questa è la linea sashimi della della kai no scusa è la linea vasabi che sto diventando scemo la linea vasabi della kai presa presa su amazon per rapporto qualità prezzo ma stiamo parlando di un solo tipo di acciaio devo farlo lucido faccio lucido ragazzi mi fermo mi fermo mi fermo perché 33 minuti per la prima volta ho fatto un video di un tempo per me accettabile per quelli bravi video durò un quarto d'ora beh io da un'ora l'ultima 33 già ho fatto il bravo video nuovo per me un video sulla filatura dei coltelli un video però una serie che vorrei continuare perché io voglio poi ste pietre naturali i coltelli naturali ci devono ammette che cavolo poi abbiamo fatto la filatura 8k con gli manici ma io qui tutta la filatura con la auto e poi mega finitura con la kayama e secondo voi la faccio e la faccio si comunque ragazzi grazie a tutti per la pazienza perché è arrivato fino a qua per chi non è arrivato lo capisco e a tutta la mia comprensione quindi di nuovo un salutone a tutti quanti e come al solito ciao popolo a tutti quanti